un libro per chi ama i thriller buoni un grande e potente thriller ciao a tutti ho iniziato in maniera un po diversa questo semina libro perché oggi vi parlo di un libro che veramente è molto potente il libro è questo qua formiche di pier nicola silvis edito da sem prima di parlarvi del libro voglio dire proprio solo due parole sull'editore sem perché sem un editore nuovo appena uscito in questi giorni sul mercato con due titoli e quando nasce un editore nuovo noi lettori appassionati noi librai siamo sempre molto attenti e tendiamo veramente a fare il tifo io in particolare in questo caso perché ho avuto la fortuna di avere questo libro in anteprima prima che uscisse di leggerlo e vi assicuro è un libro veramente potente quindi se è vero come io credo che chi ben comincia metà dell'opera auguri a sem veramente facciamo tutti il tifo perché siamo già veramente a buon punto allora formiche come sa chi segue semina libro io tra le mie passioni ci sono i gialli thriller in noir questo è veramente un thriller è un thriller potente è un thriller molto forte tematica forte come sapete io non amo fare spoiler non lo faccio praticamente mai sicuramente non lo faccio quando si parla di un thriller quindi non vi dirò nulla della storia posso dirvi solo questo provare a trasmettervi quello che mi ha trasmesso a tutti gli ingredienti giusti che deve avere un buon thriller ovvero è ben scritto c'è una storia che acchiappa da subito e si vuole arrivare in fondo si deve arrivare in fondo per capire la storia veramente la tematica veramente molto forte infatti io il consiglio che vi do di andare in libreria di prendere questo libro e leggere il risvolto di copertina se vi convince prendetelo fidatevi a scatola chiusa se magari siete un po indecisi prendetelo comunque fidatevi a scatola chiusa perché io mi è capitato raramente di di leggere un libro e poi di volerne parlare subito vi racconto solo questo brevissimo aneddoto lo stavo leggendo a un snodo molto forte molto potente una che c'è una tensione fortissima però dovevo andare al lavoro quindi sono andato in libreria ho preso da parte una collega e le ho detto è vero che tu non hai intenzione di leggere un thriller che parlerà di questo questo lei ma detto no non penso di leggere lo sto leggendo altri libri bene allora l'ho presa lo portate in magazzino le ho raccontato il libro e lo raccontato il punto al quale io ero arrivato e perché dovevo condividere la tensione perché l'idea di non poterlo leggere subito mi mi creava molta ansia e volevo arrivare assolutamente a casa leggerlo quindi ho dovuto condividere con lei anche questo momento non capita spesso con i libri non capita spesso con i thriller meno a meno che è capitato spesso e poi vi dico è veramente ben costruito cioè c'è la tensione che cresce fino al finale la cosa ecco una delle cose veramente positive per non svelare comunque nulla del libro che che mi ha colpito veramente moltissimo e che da subito sappiamo chi è il serial killer perché seguiamo la vita del serial killer e la vita di chi indaga allora chi indaga è un personaggio veramente ben ben descritto ben strutturato si capisce che dietro c'è una persona che scrive che questo mestiere lo conosce molto bene è un personaggio che comunque deve sacrificare parte degli affetti per il lavoro che fa per l'amore per la passione che mette nel proprio lavoro e dall'altra parte c'è il serial killer come dicevo uno dei punti forti di questo libro secondo me è che entriamo da subito nella mente del serial killer perché leggiamo anche i suoi pensieri quindi se all'inizio il serial killer è una persona che tenta di avere una parvenza di normalità noi leggiamo da subito i suoi pensieri siamo veramente come dire molto scossi da quello che lui pensa che all'inizio almeno non diciamo la parvenza che lui dà di vuole dare di normalità non lascia trapelare però noi abbiamo la possibilità di leggere di entrare quindi anche nella sua mente basta non voglio veramente dire altro perché rovinerei la sorpresa rovinerei il gusto di leggerlo io torno a dire ho letto raramente thriller di questo tipo poi a volte c'è un po il pregiudizio nei confronti degli scrittori di thriller italiani sciocchezze in questo caso non è né un thriller italiano è un buon thriller e i buoni thriller sono rari bisogna raccoglierli quando quando nascono io sto provando a seminarlo e niente spero in qualche modo di avervi convinto di avervi incuriosito Pier Nicola Silvis Formiche edito da Sam veramente leggetelo Grazie a tutti